Benvenuti nello stand dell'Italo Europeo Magazine alla Dolce Vita Exhibition 2012 a Londra. Con noi abbiamo questo pomeriggio la scrittrice Tiziana Galletti, autrice di due libri La vita che scorre e La moneta e il leone. Benvenuta Tiziana. Benvenuti a voi, grazie. Dunque, commercialista di professione, scrittrice per passione. Come ti è nata questa passione per la scrittura? Allora, io vengo dalla poesia, tant'è che scrivere il mio primo romanzo è stato molto difficile proprio perché la poesia ti porta a scrivere in un modo particolare. Però c'è da dire che il primo libro è venuto fuori da solo. È nato da un'esperienza mia di lutto familiare e per questo l'ho dedicato a mio padre. È iniziato in questa direzione ma poi emerge la figura di una donna moderna, la donna di oggi, tant'è che lo configuro come uno spaccato di vita moderna di una quarantenne che si trova ad affrontare le problematiche proprie legate alla nostra epoca. Possiamo identificare un filone tematico all'interno dei tuoi libri e comunque della tua attività di scrittrice? Sinceramente no, proprio perché il primo, come ti ho detto, è venuto da solo, proprio per un'esigenza forse quasi fisica. Il secondo è un giallo storico e in questo mi sono veramente voluta divertire, divertire nello scrivere. Quindi è una storia particolare, un giallo che si evolve su quattro generazioni e proprio per questa particolarità possiamo dire quasi che potrebbero essere di due autori diversi. Due libri così diversi tra loro ma generati poi in un tempo relativamente breve per due libri, uno nel 2009 e l'altro nel 2011. Quindi una passione poi quasi sfrenata per la scrittura. Cosa ti dà la scrittura e cosa ti toglie la scrittura? La scrittura mi dà, mi dà tutto. Per me la scrittura è la vita, è il momento in cui mi ritrovo, è la mia nicchia, è praticamente il mio io. Cioè nella scrittura io vado a mettere il mio io, quindi lì trovo dolori, gioie, emozioni e senza della scrittura oggi non potrei vivere. Mi toglie forse qualche piccolo spazio della vita, della mia vita, ma devo essere sincera? No, mi dà. La scrittura mi dà solo. Andiamo per ordine. Il primo che hai scritto è stata Vita che scorre. Qual è il messaggio che hai voluto dare, appunto a parte il fatto che è stato generato da una situazione difficile? Il messaggio di base? Il messaggio di base? Guarda, io credo che venga da solo anche questo, mi devo ripetere, perché alla fine del libro io nel corso ho dato il nome ai personaggi e in genere dare il nome ai personaggi viene un po' da solo, un po' lo pensi. In questo non l'ho pensato la protagonista e si chiama Vittoria, per cui mi sono accorta alla fine che questo personaggio che si chiamava Vittoria vinceva, perché vinceva nella vita, nell'affrontare, nel coraggio di affrontare le problematiche che ci possono capitare, sia a livello di dolore, sia a livello di gioia. Quindi è la vita stessa, è la vittoria, è l'ottimismo, è il coraggio di affrontare comunque le emozioni della vita, che siano negative o positive, arriva sempre qualcosa. Cosa è cambiato di te tra il primo e il secondo libro? Sicuramente è maturata la scrittura. Mi dicono chi mi ha letto che è una scrittura che sta maturando, questo non lo nascondo. In me è cambiata la voglia di scrivere, voglia sempre più di scrivere. E qual è invece il messaggio del secondo libro, La moneta e il leone, che hai appunto già delineato come più fantasioso e fantastico? Diciamo che nel secondo, al di là dell'aspetto di scrittura e di fantasia, io ho voluto ricercare, l'ho raffinato su una ricerca un po' della verità. Quindi anche se ho fatto magari tre righe di un accenno storico, quelle tre righe io ci ho lavorato molto nella ricerca, nello studio, per far arrivare una notizia vera nella storia fantastica. Tant'è che ho visto che hanno riscontrato questo particolare, cioè che il lettore si è reso conto di quello che sto dicendo, io sono fiera, contenta, tant'è che nel secondo, rispetto al primo, anche se nasce nel 2009, era finito precedentemente e ci ho messo un tempo limitatamente breve, nel secondo ci avrò impiegato anche tre anni. Ecco, io vorrei approfittare oggi pomeriggio di questa occasione per parlare con te di questa signora, la scrittura, che si presenta quasi senza farsi presentare da nessuno, senza annuncio e arriva e rapisce completamente. Cosa pensi dei giovani scrittori di oggi? Allora, io penso innanzitutto che la scrittura è un grandissimo mezzo comunicativo, perché dalla scrittura si arriva al lettore, quindi il lettore può far proprio l'esperienza e le emozioni di chi sta scrivendo. I giovani di oggi, devo essere sincera, posso vedere nel nostro panorama abbastanza leggerezza, però ho potuto individuare in questa leggerezza della gioventù odierna, che forse è portata ad avere subito tutto, una ricerca spasmodica di profondità, di sentimento, che a volte manca. Ho letto di recente il racconto di una ragazza giovane che parlava di una malattia, di una morte del proprio fidanzato, cosa assolutamente non vera, ma di un'intensità, di una emozione tale che ha fatto capire quanto volesse affrontare quell'argomento in prima persona, quindi la ricerca di un sentimento profondo, qualcosa che lo lega più alla vita, che oggi purtroppo sfugge. Per loro, io vedo una ragazza grande, adolescente, vedo che tutto è subito, questo concetto di tutto è subito purtroppo non dobbiamo ritrovarlo nella scrittura, quindi ci si deve fermare, leggere e scrivere. Per oggi a volte è un po' troppo veloce la scrittura. Quindi dobbiamo ritrovare un po' il senso della lentezza e con essa il senso della riflessione che poi apporta. Ritieni pertanto che ha un ruolo sociale? Assolutamente sì. La lettura, partendo dalla lettura, perché ovviamente chi scrive posso dire che ha un dono, è un regalo della vita. A me mi hanno detto che io ho un regalo della vita, il fatto che io possa scrivere e questo ne sono contenta e convinta. Leggere quindi, che è il prodotto della scrittura, è qualcosa che apre la mente, è il transfert che ti può portare tra te, la conoscenza, il tuo io e quello che il mondo è fuori. Quindi ti mette a contatto con il mondo, con la vita e io mi ripeto, con i sentimenti e le emozioni, che poi è il fulcro della vita. Bene. Infine vorrei chiederti, affrontare con te un altro aspetto. Quello che è vero sì che ci sono molti scrittori oggi, molti più che in passato, grazie anche alla possibilità di pubblicare con diverse case editrici, anche online in alcuni casi. E quindi abbiamo da una parte gli scrittori approvati e conosciuti e dall'altra una moltitudine di nuovi scrittori che si affacciano al mercato. Quindi pensi che vi siano delle barriere, delle difficoltà per chi si avvia in questa avventura della scrittura, farsi conoscere al pubblico e quindi lasciarsi leggere? E come è possibile, secondo te, superare queste difficoltà? È un tema veramente grande. Grande posso dire dolente, perché io il primo ho aspettato due anni per pubblicarlo, proprio perché non mi piaceva cosa mi stavano offrendo. Oggi purtroppo è diventata una giungla anche l'editoria, quindi farsi un attimino vedere, un po' di visibilità. È vero che si scrive in molti. Forse, una cosa io dico, si dovrebbe fare più selezione, si dovrebbe puntare un pochino più sulla qualità e non su questo qualunquismo e proliferare di scrittori e di emergenti. Sì, dare la possibilità a tutti d'accordo, però con selezione. E per un emergente è veramente difficile arrivare, proprio perché manca la fase, il salto della promozione, cioè tu non sei nessuno. Quindi il tuo libro non arriva in libreria e lo tocchi. Il libro, adesso abbiamo l'era moderna, tecnologica, lo scarichi, lo leggi su internet, è vero, ma c'è ancora una bella fetta di persone che vogliono toccare, annusare il libro. Allora tu emergente, tu scrittore sconosciuto, non avrai mai questa possibilità perché il tuo libro non sta in libreria. Viene ordinato eventualmente, ma il tuo libro non è in libreria. Quindi se ci fosse la possibilità di fare una selezione e di avere un pochino più un occhio di riguardo all'emergente e quindi tenere qualche libro, questa è la promozione, è questo che dovrebbe fare il libraio soprattutto. Grazie Tiziana. Grazie a voi.